ciao a tutti ragazzi finalmente vi riporto un po' in giro vedrete un po' più spesso il mio calpello da esploratore e anche la mia faccia sfatta nel frattempo stiamo passando il torrente cosa siamo nel territorio di Castelnuovo del Friuli e si sale sapete già qual è la mia destinazione ho già avviato Relive la partenza è da Paludea ma si può fare anche da Almadis che però non ha un bel parcheggio grande e soprattutto con dei begli alberi che fanno un po' di ombra cosa che non guasta oggi la giornata è un pochino grigia ma ultimamente in Friuli sta facendo parecchia pioggia soprattutto in tardo pomeriggio barra serata vedremo come sono i sentieri appunto per salire per cui direi che adesso che comincia la salita mi taccio vi beccate un po' di riprese appunto dalla salita e ci vediamo a quella che è la mia destinazione mentre riprendo fiato dal pezzo più pendente anche se la salita non è finita devo fare i miei complimenti ragazzi del mountain bike zero asfalto mi pare che si chiami l'associazione che stanno tenendo ovviamente i sentieri sono anche percorribili in mountain bike la segnaletica appunto è praticamente nuova i sentieri sono veramente tenuti molto molto bene nonostante il vento e le piogge negli ultimi giorni il sentiero che sto percorrendo ora si chiama il sentiero del Pungitopo e direi che si capisce il perché peraltro qui c'è anche ormai andato nel senso che non è commessibile c'è anche l'asparago del Pungitopo vedete delle case dietro di me abbandonate appunto sono arrivata al borgo di Praforte è un borgo abbandonato appunto non troppo in realtà perché comunque ci sono persone che girano appunto vecchi abitanti che vengono su ma vi dico dopo il motivo siamo sulle pendici orientali del monte Ciaurlec circa 350 metri sul livello del mare e appunto siamo nel territorio di Castelnuovo del Friuli la vita qui si è interrotta a metà degli anni sessanta a seguito di un ordine di sfratto ufficialmente per problemi legati al dissesto idrogeologico era da poco successo il disastro del Vajont quindi si è fatta molta leva su questa cosa qui nella realtà il vero motivo era la trasformazione dell'area in poligono militare eravamo peraltro in piena guerra fredda e il rischio era che le case venissero colpite durante le esercitazioni gli abitanti cercano di resistere ma alla fine degli anni sessanta vennero tutti trasferiti a Praforte nuovo costruito con i soldi della regione più a valle con la cessazione dell'attività del poligono nessuno è tornato a vivere stabilmente nelle vecchie case comunque il paese viene comunque appunto saltuariamente frequentato da chi qua su ha animali e orti ci sono delle galline c'è una bella vigna e c'è una casa che adesso c'è un signore dentro con il cane che appunto frequentata chi ci viene regolarmente ma anche le escursioni sono un modo per mantenere comunque viva la memoria di questo posto adesso ci spostiamo e rientriamo passando dalla chiesa di san vincenzo e dal cimitero di Praforte per poi scendere verso al madis effettivamente e rientrare a paludere ho preso la scorciatoia che dal borgo attraverso il bosco porta appunto a quella che c'è dietro di me ovvero la chiesetta di san vincenzo edificata nel diciottesimo secolo ha subito numerosi rimaneggiamenti ed è praticamente abbandonata da quando è stato abbandonato Praforte quindi da fine anni sessanta è comunque maltenuta molto bene e di qua c'è anche un tavolino con due panche se qualcuno volesse mettersi rigorosamente al sole a fare un picnic e adesso andiamo verso il cimitero e verso al madis e questo qui è il piccolo cimitero di Praforte super tenuto bene devo dire anche se praticamente non viene più utilizzato ovviamente nessuno viene più tumulato qui però è tenuto decisamente bene per essere in mezzo al nulla superato il borgo di al madis c'è questo piccolo guado per tornare verso paludea niente di che nonostante le piogge abbondanti degli ultimi giorni però consideratelo nel senso che se dovesse avere da poco piovuto potrebbe essere che sia decisamente più ci sia decisamente più acqua questa è la sorgente Toff che è stata costruita dagli alpini che le cui acque vanno poi direttamente dentro al Cosa che scorre proprio poco più a valle qui vedete l'acqua e c'è anche questo rio probabilmente se venite in periodo un pochino più secco non lo vedete ma in questo momento appunto con le piogge c'è un bel rumorino d'acqua vi risparmio la mia faccia distrutta di fine escursione e faccio l'outro del video direttamente dallo studio mentre parlo vi faccio passare il video riassunto dire live così avete un'idea di distanza dislivello e anche di quello che al mio tempo di percorrenza anche se non è troppo indicativo questo vi ricordo che in descrizione trovate il link a tutti i miei social e anche al calendario delle escursioni per venire appunto in giro con me per il friuli se il video vi è piaciuto lasciate un like e commentate facendomi sapere se siete interessati ad avere un video che tratti o di quello che mi porto nello zaino o delle app che utilizzo per le escursioni se non siete iscritti iscrivetevi attivando anche la campanella per non perdervi i prossimi video e se volete sostenere il mio canale e la mia attività in maniera più diretta potete abbonarvi a 99 centesimi al mese oppure cliccando il tasto grazie e lasciare una donazione libera io vi ringrazio anticipatamente e non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video dicendovi come al solito have a nice life la mia attività è una donazione libera io vi ringrazio a tutti i miei sociali